eccoci qui sempre al cosplay 2014 siamo con sio 2014 romix 2014 ciao sono sio ecco allora abbiamo visto e stai impegnato a formare fotografie di tutti quanti e dicci qualche cosa è qualche cosa ed è molto bello il romix quest'anno sono un sacco di persone ecco senti due disegni io faccio scottex a un canale di youtube che si chiama scottex appunto è appena uscito il mio libro nuovo che si chiama questo è un libro con i fumetti di sio perfetto allora io ti lascio andare perché lo aspettano ti ringrazio salutiamo tutti gli utenti su youtube facebook e twitter tutti i social network ciao a tutti i social network soprattutto quelli di quel social network nuovo che poi non serve più a niente ciao ciao a tutti e a tutti quanti ti seguiremo sulla nuova anticipazione che c'è dato grazie ciao ciao buon tutto grazie